allora finiamo questo video e poi dopo in inizio subito un altro allora se la sigla va qui perfetto togliamo la musica della sigla e voilà perfetto e mettiamo in audio musicale fino alla fine alziamo un pochino giusto per effetto ecco qua salva a posto adesso dobbiamo solo renderizzarlo e abbiamo fatto clic cartella di destinazione a posto abbia perfetto 12 minuti e abbiamo fatto anche questo video è finito ragazzi anche questo video è finito si scusate stavo renderizzando proprio questo video che dovrà uscire prossimamente sul canale ed è un video la dove parleremo di chat jpt però ragazzi prima di iniziare questo video io che mi dite andrei a farmi un caffè e poi dopo magari monterò anche la seconda inquadratura proprio per parlarvi di questa chat jpt proprio per provarla per vedere un po quello che si riesce a fare con questa chat ok quindi ragazzi mettetevi comodi e noi ci vediamo subito dopo la sigla e ricordatevi che dopo la sigla beh berrete con me a prendervi un caffè quindi sigla ok l'introduzione l'abbiamo fatta adesso io mi agirei e vado a farmi sto beccato intanto a 13 minuti e ha finito e 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 Allora ragazzi, come ho detto nella intro di questo video, vedremo un po' questa intelligenza artificiale, ovvero questa chat JPT, fino a dove può spingersi. Allora, fatto sta che io per la prima volta l'avevo vista in un video di proprio Omega Click, però lui ha portato tutta l'altra argomentazione in quel video e gli ha dato impasto a quella chat, però io non andrò a trattare quel tipo di argomentazione anche perché non ne ho le specifiche competenze per poterlo fare. Ma vediamo se questa intelligenza artificiale, questa chat JPT, questa OpenAI, chiamiamola un po' come vogliamo, riesce a darci una mano nel creare proprio un nostro video. Quindi ragazzi, finisco di consumare il mio caffè, ritorno alla mia postazione ed eccomi qua. E vediamo un po' questa chat artificiale, ovvero questa intelligenza artificiale, se riesce a creare il nostro contenuto e vediamo che suggerimenti ci dà. Quindi, eccomi qua, finisco il mio caffè, metto da parte la tazzina e partiamo subito, intanto qui la seconda inquadratura con la schermata, mi trovo meglio così, e partiamo subito con la presentazione. Quindi facciamo semplicemente, ciao, molto piacere di conoscerti. Ciao, piacere mio, in che posto esserti utile oggi? Allora, in che cosa può esserci utile? L'ho detto, proviamo a vedere se lei riesce a realizzare un contenuto per noi. Quindi, gli diciamo, devo registrare un video, devo girare un video, quindi devo girare un video per YouTube. Ecco qua, allora, lei è partita con la risposta, quindi ci sta, secondo me, dando tutti i suggerimenti e vediamo un po' cosa ci dice. Per girare un video per YouTube ti consiglio di seguire questi passaggi. Allora, scegliere un argomento, e questo ci sta, perché ovviamente noi nei video portiamo gli argomenti, o magari portiamo anche delle video recensioni. E' proprio quello che faremo. Allora, scegliere un argomento, creare un piano per il tuo video, cosa mostrare, come mostrarlo, in modo che possa coinvolgere il pubblico. Poi, ci dà anche suggerimenti per l'attrezzatura, in questo caso ci dice, scegli una location adeguata, per avere permesso di farlo, quindi devi avere permesso di girare il video in una suddetta location. L'equipaggiamento necessario è come una videocamera, un microfono, un treppiede e una luce supplementare. Quindi devo dire che l'attrezzatura al momento non ci manca. Una volta che hai finito di girare il video, montare il video, utilizza un software di montaggio e neanche quello ci manca. Adesso noi andiamo un pochino più nello specifico e gli diciamo che vogliamo girare una video recensione. Allora, devo girare una video recensione. Vediamo che ci dice. Allora, sperando che non sia un copia in colla del paragrafo precedente, ma ritornando qui sul display. Allora, scegli un prodotto o un servizio che vuoi recensire, dopo averlo utilizzato a sufficienza per poterne parlare e informare. Poi, crea un piano per il video su come mostrarlo e come vuoi mostrarlo, quindi praticamente identica a prima. Scegli una location, questa già l'abbiamo detta, girare un video, ottenere riprese stabili e ben illuminate. Quelle non ci mancano perché abbiamo un bel po' di luci. Poi, un software di montaggio che questo ha fatto in copia in colla spudorato del paragrafo precedente. E niente, ragazzi, vediamo qui cosa sta scrivendo. Nel caso della video recensione, ti consiglio di seguire linee guida, presentando un prodotto, un servizio, in azione se è possibile, dagli un giudizio obiettivo. Ok, nel frattempo che lei sta finendo di generare la risposta, non ti dimenticare di dimensionare il prezzo e dove si può acquistare il prodotto o quel servizio. Allora, adesso cerchiamo di essere un pochino più specifici e gli diciamo, devo recensire il Galaxy Watch 4 di Samsung. Lo conosci? Qui ho mancato la G, andiamo ad aggiungerla, vediamo un po'. Sì, conosco il Galaxy Watch 4 di Samsung. Adesso qui lei comincia, a quanto pare, con il suo pippone perché gli ultimi due paragrafi sono stati un pippone o perlomeno un copia in colla di uno e dell'altro. Però, devo dire che adesso ci stava generando una risposta proprio formale su quello che è il Galaxy Watch 4. Quindi ci ha detto un'introduzione. Il Galaxy Watch 4 è uno smartwatch di fascia alta che offre una serie di funzionalità avanzate, raccogliere monitoraggio della salute, pagamenti senza contatto e tanto altro ancora. Poi per girare video recensione, mostra il design e la costruzione del Galaxy Watch 4. Quindi, ragazzi, vedete, lei o lui, non so chi sia questa intelligenza artificiale, non so se abbia un genere, ci sta dando anche alcuni punti da portare nel video per quanto riguarda il prodotto. E poi, ok, allora, ci dice, andiamo avanti. Il design e la costruzione del dispositivo, mostrare come si collega al dispositivo con le relative impostazioni, tutte le funzionalità, bluetooth, navigazione GPS e quant'altro, durata della batteria, dimostrazione delle funzionalità, un giudizio obiettivo sui pro e i contro, è quello che facciamo, ovviamente, noi, ogni video recensione qui sul tubo. Poi, offri una conclusione in consiglia a chi dovrebbe acquistare il Galaxy Watch 4 e a quale prezzo si può trovare. Poi, vabbè, esportare il video e caricarlo sulla piattaforma. Andiamo avanti. Lei ci ha parlato del prezzo. In questo paragrafo, proprio qui, non ce l'ha detto, in questo paragrafo qui. Noi vediamo se lei continua il discorso e vediamo se ci dia fuori anche il prezzo o alcune alternative di prezzo in giro per gli store. Gli diciamo quanto costa. Ecco qua. Allora, ci ha messo un pochino, ci stava pensando, quindi adesso stiamo avendo qui la risposta. Ritorniamo. Il prezzo del Galaxy Watch 4 varia a seconda del modello e delle specifiche che scegli. In generale si può trovare nella fascia di prezzo tra i 349 dollari e i 399 dollari. Tuttavia, il prezzo può variare in base alla regione, al negozio in cui lo acquisti e alla disponibilità. Poi, suggerimento. Ti consiglio di verificare il prezzo sul sito ufficiale Samsung o sui principali siti di e-commerce come Amazon, Best Buy, eccetera, eccetera. Per avere un'idea più precisa del costo. Ecco, vedete, lei ci ha generato un video. Praticamente ci ha dato dei suggerimenti molto utili. Quindi, devo dire che sotto questo aspetto, l'intelligenza artificiale, magari se fate delle domande con parole chiave, degli argomenti con parole chiave, lei ci porta a fine tutto il discorso. Siamo partiti dalla presentazione, poi abbiamo detto che dovevamo girare un video per YouTube, lei ci ha parlato dell'attrezzatura, una location, software di montaggio, e poi ha detto, alla fine, caricalo su YouTube e questo ci sta. Poi, nel secondo paragrafo, quando gli ho detto, devo girare una video recensione, alcuni paragrafi, alcune frasi sono quali, ma poi ci ha detto un po' quello che era. Quindi ci ha detto di avere buon audio, una buona illuminazione, una buona fotocamera, ovviamente software di video montaggio e quant'altro. Poi, quando gli ho detto, oddio, quando gli ho detto che dovevo parlare del Galaxy Watch 4, devo recensire Galaxy Watch 4, lo conosci, e lei qui, in pratica, ci ha messo davanti proprio una scaletta di tutto quello che noi dobbiamo portare nel video. Quindi, da design, la costruzione, come si collega, tutte le funzionalità che ha il dispositivo, la batteria, i display, dimostrazione delle funzionalità, dare un giudizio obiettivo, una conclusione, chi e dove si vende il dispositivo e quant'altro. Poi, vabbè, ha detto, parlaci anche del prezzo, e proprio per questo che in questo paragrafo non l'aveva detto e gli ho detto quanto costa e lei ci ha dato subito l'altro paragrafo su come parlare del prezzo. Quindi, ragazzi, insomma, devo dire che questa intelligenza artificiale sotto alcune cose, sotto alcuni aspetti, è molto utile perché ci può dare dei suggerimenti su come realizzare alcune cose. Ovviamente che io non ho fatto come meca clic e gli ha dato in passo delle argomentazioni stratosferiche perché io sapevo che con quelle argomentazioni l'intelligenza artificiale andava un po' in panna e però in alcuni punti gli ha dato delle risposte molto ma molto sensate. Non voglio fare questa cosa, magari se riesco a portare avanti questa serie e vedo un po' cosa farmi venire in mente per qualche altro video. Allora, ragazzi, io lo finisco qui, quindi non voglio fare un video troppo lungo, già è stato troppo lungo per i miei gusti e che devo dire? Al momento devo dire che questa intelligenza artificiale è stata d'aiuto. Mi ha fatto una scaletta, mi ha detto di cosa parlare e di cosa non parlare, dell'attrezzatura e devo dire che ci sta. Allora, se anche voi conoscevate questa chat GPT, se la utilizzate, se la utilizzereste, se la provate, insomma, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, se l'avete provata, come è andata, insomma, ditemi tutto quello che volete qua in basso nei commenti di questo video. Ve lo ricordo, ragazzi, per poterla utilizzare dovete iscrivervi al servizio Chat OpenAI o con il vostro account Google o con qualsiasi altra mail e siete subito pronti a utilizzarla. Allora, vi stavo dicendo, dopo aver commentato il video, lasciate tutti i vostri pollicioni in su se questo video vi fosse piaciuto, ma a me fa molto piacere, quindi tutte queste cose che vi dico a me è un grandissimo supporto. A voi non costa nulla, ma per me è un grande supporto. Quindi, dopo essere iscritti, anzi no, non l'ho detto, quindi iscrivetevi al canale, veramente mi date un grande aiuto. Dopo essere iscritti, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video per darmi veramente una mano. Dopo averli condivisi, ragazzi, mi trovate anche su Instagram, chioccio a miticosnake, ve lo ricorda anche l'animazione, tutti i link di riferimento ai miei social li trovate sempre in descrizione, come trovate il link in descrizione anche della Chat OpenAI e noi ci vediamo sempre qui con un mio prossimo video sul canale. Ciao!